A Torino, in via Tunisi, in uno stabile in ristrutturazione, i carabinieri della stazione Lingotto hanno sequestrato un revolver con apertura bascula di costruzione artigianale, privo di marca e punzonatura del banco di prova, cinque cartucce calibro 38 con palla blindata, una cartuccia calibro 38 special, due bilancini di precisione e 15 grammi di mannita. Il tutto era stato nascosto nel controsoffitto del locale ascensore del condominio.